Il superamento dell'etnocentrismo ha portato un miglioramento di conoscenze in tutti i settori e in tutte le discipline. Per quanto riguarda la medicina, la medicina non convenzionale è arrivata ad avere un'importanza nei paesi occidentali proprio nel momento in cui la medicina ha aumentato le speranze di vita. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il sapere biomedico, quello tradizionale occidentale, ha incominciato ad inclinarsi e quindi un coinvolgimento dei saperi anche di diversi paesi europei può sicuramente migliorare l'offerta di salute. Anche per quanto riguarda la femminizzazione delle facoltà di medicina e quindi il sapere medico abbiamo fatto alcune ricerche che testimoniano che l'apporto delle donne nelle discipline scientifiche ma anche nelle discipline umanistiche migliora la conoscenza e amplia la capacità di superare il riduzionismo come si può definire nelle scienze positive e ampliare altre conoscenze. Il genere per esempio è stato molto importante nel ampliare queste conoscenze e nel migliorarle quindi come è stato per il genere così anche le diverse appartenenze geografiche il melting pot, quello che potremmo definire così, può migliorare e sapere in tutte le discipline. Grazie a tutti! Grazie a tutti!